La guerra dei fossi la sta vincendo lui, Paolo Tamburini, presidente del Consorzio di Bonifica. Dalla Commissione Tributaria Regionale arrivano infatti due sentenze in favore del Consorzio di Bonifica 2, Alto Valdarno. Contrariamente a quanto deciso a livello provinciale, i giudici fiorentini hanno dato ragione al Consorzio che aveva presentato ricorso contro la decisione della Commissione di Arezzo. Non solo è stata respinta anche la class action dei 649 cittadini relativa ai contributi del 2010, oltre alla condanna, in un caso, del pagamento delle spese processuali, qualche migliaia di euro. Dalla Commissione Tributaria Regionale, afferma Tamburini, arriva una ulteriore serie di sentenze che legittimano pienamente il contributo di Bonifica, ribaltando per l'ennesima volta quanto disposto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo. Tuttavia, prosegue Tamburini, la sentenza ci lascia l'amaro in bocca, in quanto a rimetterci alla fine sono soltanto i cittadini. In Toscana la prevenzione dal rischio idrogeologico si basa sostanzialmente su due gambe. La Regione, per quanto riguarda la programmazione e la pianificazione degli interventi, e i Consorzi di Bonifica, per quanto riguarda la loro realizzazione. Ne consegue che il Consorzio è l'unico ente preposto alla manutenzione del reticolo idraulico in sua mancanza o difetto. Oggi questi interventi non sarebbero realizzati.